Una location inusuale per girare un video, soprattutto perché è buio e non mi si vede neanche quasi, anzi qui sì perché ci sono delle luci, ma credo che fra poco sparirò. Oggi non ho avuto un attimo di tempo per fare uno straccio di video, quindi mi sono ritagliato questi pochi minuti per una considerazione. Mentre facevamo una riunione oggi ho citato una circostanza reale in realtà che è successa. La storia è questa, è una storia vera tra l'altro e l'ho usata come esempio. Quando facevo le superiori, forse in seconda superiore, andavo a fare ripetizioni di matematica da un professore. Una persona veramente molto 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 intelligente, molto capace, che aveva una cultura immensa, immensa davvero. Lui era professore di religione, ma era veramente una persona colta e ne sapeva un sacco di matematica, di fisica, cioè era veramente, faceva ripetizioni di qualsiasi materia. Succede un giorno che lui sta andando a scuola e lungo il tragitto si sente male. Si sente male e si accascia a terra e si rende conto che quello che sta accadendo è un attacco cardiaco, al che si accascia e sta talmente male che non riesce proprio bene ad attirare l'attenzione dei passanti, a farsi capire, perché il dolore lo spaventa talmente tanto e probabilmente anche talmente forte che lo atterra. La cosa incredibile di tutta questa storia è che i passanti hanno continuato a scorrergli a fianco, scambiandolo per un balordo, un drogato, non lo so, un alcolizzato, un vecchio matto. La città era grande e ovviamente sai c'è un po' di tutto, ma lui era una persona tutt'altro che balorda, tutt'altro che matta, molto schematico, uno studioso, una persona di profonda cultura, specializzato veramente in religione, ma un profondo conoscitore delle religioni, non della religione cattolica, ma proprio delle religioni, uno studioso vero e proprio. Non era affatto un balordo, ma un giudizio superficiale e un occhio disattento lo dipingono alla fine come un balordo e lo lasciano lì accasciato, dolorante e mezzo moribondo, perché in preda ha un attacco cardiaco. Fortunatamente la storia finisce bene, perché un suo ex studente passa di lì, lo vede e lo riconosce, si ferma e alla fine lo soccorrono. Lo soccorrono, finalmente arriva l'ambulanza e tutto finisce nel migliore dei modi. Quello che la cipicchia ho usato nell'esempio oggi in riunione era proprio questo, ho detto se tu dovessi vedere una persona accasciata nel marciapiede, puoi scambiarlo per balordo, puoi scambiarlo per drogato, puoi scambiarlo per alcolizzato o un matto, però in realtà non lo sai, cioè non lo sai finché non ti fermi e finché non lo aiuti, perché solo allora scopri veramente chi è e che fa. E questo serviva per usarlo come un esempio per una circostanza che si stava venendo a creare, in cui vedevo una persona in difficoltà e io per primo mi fermavo e cercavo di capire per la fretta. Diamo un giudizio superficiale a una situazione per farci star buona la coscienza fondamentalmente e per tirare dritto e andare avanti per la nostra strada, perché l'imprevisto ti rompe i piani e sballandoti i piani non puoi più fare le grandi cose importanti che ti eri prefisso. Ma soprattutto se questa persona che fosse lì fosse una persona che tu conosci, non dico un amico, ma diciamo un conoscente, lì accasciato a terra, con che faccia tireresti dritto? E quindi non è una questione di essere buoni samaritani o altro, è una questione di, non lo so se il termine giusto sia responsabilità, però se responsabilità vuol dire capacità o abilità di rispondere, allora probabilmente dobbiamo allenare di più la nostra capacità e abilità di rispondere alle situazioni. Perché non sempre le apparenze sono ciò che sono e magari tendere una mano per aiutarlo ad alzarsi sarebbe stata magari la soluzione o avvicinarsi e tendere noi una mano per dire hai bisogno d'aiuto e chiamare l'ambulanza. È che molto spesso preferiamo ignorarlo, preferiamo ignorare le situazioni. Niente, tutto qui. Il pensiero di oggi è questo. Lo metto così, in questa location un po' balorda, ma oggi va così. Però l'abbiamo fatto.